Il tuo consulente Grometeo ti dà il benvenuto su Agronotizia, il tempo previsto per questa fine settimana. La perturbazione atlantica giunta mercoledì seguiterà a inviare aria più fresca sull'Italia che determineranno rovesci anche temporali, soprattutto nelle ore pomerigliane. Allora, venerdì tre rovesci temporali sparsi, special pomeriggio, ovunque tranne la Calabria, la Lombardia e le isole maggiori. Sabato a quattro isolati rovesci temporali sulle regioni di nord-est e al sud, domenica ancora qualche isolato temporale pomeridiano sulle Alpi centro-orientali, Piemonte, Liguria, regioni appenniniche. Fresco venerdì e sabato al centro-nord.